E la Corte dei Conti si pronunciò sulla nomina ad esperto della dottoressa Anna Maria Aiello, appunto voluta dal primo cittadino di Modica, Ignazio Abate, come proprio consulente finanziario nel 2016. La stessa Aiello, che fino a poco tempo fa era stata presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e che oggi è assessore al bilancio, tributi e finanza nella giunta Abate. La Corte dei Conti, dicevamo, si è pronunciata condannando Abate di danno erariale proprio per tale nomina. Danno quantificabile in una multa che supera i 30.000 euro da risarcire all'ente, compresi gli interessi maturati in questi anni. Il tutto poteva essere evitato. Il consigliere d'opposizione Ivana Castello afferma di sì. Bastava ascoltarla quando lei stessa si oppose fermamente alla nomina ad esperto dell'Aiello, avvisando il sindaco dell'errore che stava per commettere, dato che tale nomina non solo contrastava le leggi in vigore, ma l'intero interesse economico del Comune, in carico che invece avvenne e che costò oltre 3.000 euro al mese alla collettività che si avvalse della figura professionale della consulente Aiello. Fu sempre la Castello, fallita la speranza di far fare marcia indietro al primo cittadino ad informare la Corte dei Conti sulla nuova figura all'interno di Palazzo San Domenico, la stessa Corte che oggi le ha dato pienamente ragione, notificando proprio al sindaco Abate la condanna per danno erariale. In sostanza, per capire meglio quanto accaduto e il perché della condanna, i poteri dell'amministrazione pubblica si distinguono in due grandi gruppi, quello di indirizzo e controllo e quelli di attuazione e gestione. I primi spettano agli organi politici e i secondi agli organi amministrativi. Il sindaco, dunque, che esercita solo poteri di indirizzo e di controllo, può nominare propri esperti per esercitare meglio tali poteri, ma stando ben attento a tenersi a debita a distanza dalle funzioni gestionali che spettano esclusivamente al corpo burocratico. La nomina dell'Aiello è stata articolata, manco a farla apposta, in modo da non rispettare la separazione delle due competenze. Gli spiegai, commenta la Castello, che la sua scelta avrebbe determinato un danno erariale, ma non ci fu verso di farlo indietreggiare. Chiesi che la mia interrogazione fosse inviata alla procura regionale della Corte dei Conti e così fu. La procura, poi, ha avviato un'indagine che ha portato a un formale procedimento e ora alla condanna del sindaco. Dovrà pagare una cifra superiore a 30.000 euro per il danno procurato alle casse comunali. Non mi fa piacere questa vittoria, è bene che il sindaco lo sappia, ma applicare la legge, conclude la Castello, non ha mai fatto male ad alcuno.